Allora buongiorno, un altro piccolo consiglio soprattutto per chi torna dalla settimana bianca abbiamo messo gli sci bagnati perché abbiamo sciato anche l'ultimo momento nella sacca arrivati a casa erano già le lamine un po' arrugginite che cosa fare? direi di mettere un po' di VD40 spruzzare un po' di VD40 sulla soletta e strusciare bene con un panno per togliere la ruggine che si è formata in alcuni punti in modo di preservarli poi sarebbe di prepararli immediatamente con la sciolina chi ha la possibilità dovrebbe farli preparare senza farli spatolare lasciando anche la sciolina sopra alle lamine per poi spatolarli prima di iniziare a sciare il prossimo anno questo è un prodotto molto economico che si trova anche su internet e su Amazon con la possibilità di mettere a gocce la sciolina sulla lamina e su tutta la parte sotto con delle gocce di sciolina che vanno messe direttamente o ancora meglio su questa spugnetta in modo che rimanga non secca non secca non secca